Distinguished Gentleman's Ride è un qualcosa che è nato tantissimi anni fa proprio per sfatare lo stereotipo del motociclista che veste sempre un po' trasandato mentre sappiamo che la realtà è diversa perché insomma ce la stiamo vedendo attorno ma lo vediamo quotidianamente anche in città siamo passati da 366 a oltre 400 equipaggi quest'anno siamo felicissimi, siamo riusciti anche questa volta tramite anche dei professionisti, degli urologi a spiegare l'importanza della prevenzione quindi fare dopo i 40 anni il test sul PSA e eventualmente non tirarsi mai indietro di fronte a un dito perché si allunga la vita spaventarsi non ha proprio senso visto che muore un uomo ogni 30 secondi per questo motivo sono anche delle persone che hanno delle forti paure i maschi perché le donne ci hanno dimostrato che la prevenzione va fatta e va fatta bene per allungare la propria vita speriamo un giorno di avere tantissimi reggini che compreranno la motocicletta è già successo in diversi casi che hanno comprato la moto dopo averci visto ci divertiamo, è una manifestazione di solidarietà non triste ma divertente ci divertiamo, stiamo insieme, balliamo è questo il DGR, lo spirito è proprio gentile e distinto come si vede qui attorno la prevenzione gioca un ruolo fondamentale nel contrastare il tumore alla prostata il tumore alla prostata è una patologia che non dà nessuna sintomatologia fin quando è una malattia organo confinata quando noi facciamo prevenzione ci permette di intervenire e curare la malattia quindi noi dobbiamo agire in tempi molto rapidi per poter essere sufficientemente pronti a curare questo tipo di patologia qual è il consiglio? il consiglio è quello di regarsi dal proprio medico di famiglia eseguire alcuni esami semplici come il dosaggio del PSA eseguire una visita urologica se è necessario perché già con il dosaggio del PSA e una visita urologica con una esplorazione digito-rettale della prostata si può fare una diagnosi di presunzione e poi se è necessario approfondire l'indagine un ringraziamento ai gentlemen per questa organizzazione per questa manifestazione che dà a tutto il mondo, agli uomini di tutto il mondo la possibilità di fare prevenzione buona strada a tutti